Ah proprio la corrente, la corrente, eh? Eh, eh. Ah, eh? L'ha da voi trent'anni. Ah, io l'ho stagato. Trent'anni che c'è la corrente. Mi sono chiesto, adesso. C'è che quarant'anni ha fatto. E noi siamo cosciuti a Cioara. E Cioara? E chi è Cioara? Cioara. E noi siamo Cioari? Cioara perché... Cioara. Perché è Cioara? Un po' non so perché. A Gazzarelli quando si fu il colo, a Gazzarelli è l'olio. Cioara. Miglio, guardavo miglio. Che lui ha fatto una malattia, per dire che è che è Gesù. Ha fatto una malattia e poi è che è un po' l'unico. Mi è chiesto, beh, dalla preghanna ero per camara, la camara con la stessa, e dice figlio che ha matrato. e c'è anche il tè, e mi è lì che è rotto, e gli faccio il più bello. Maia, via! Maia, via! E una domigiana, la domigiana, la domigiana, lì, maia, via! Cioara. Che fa bene, come ti mangio, fa il mio parate alle mie gianni di lì. Quattro? E anche le mie gianni di lì. E mi quanto la buona, che è più 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 più. Gigi che fa il caffè. Gigi che fa il caffè, sì, eh! E lui, qui, il caffè? La ticoli! La dispensa... ora che spettacolo ora che non va a pesare è a posto sei di casa qua Gigi basta